Israele espande l'offensiva di terra in territorio libanese dopo una serie di attacchi mirati. Le forze di difesa israeliani hanno schierato nel sud del Libano una quarta divisione contro Hezbollah. Il numero di unità al confine supera i 15.000 uomini. Nella notte altri raid israeliani su Beirut e nel Libano orientale e meridionale hanno colpito alcuni edifici residenziali e altre infrastrutture. L'AIDF ha dichiarato di aver ucciso Suhail Husseini, il comandante del quartier generale di Hezbollah, in un attacco a Beirut lunedì sera. Husseini sarebbe stato responsabile del trasferimento di armi dall'Iran e della loro distribuzione alle varie unità del gruppo sciita. Israele ha anche annunciato che presto avrebbe lanciato alcune operazioni sulla costa meridionale del Libano, avvertendo i residenti di stare lontano dalla costa sul Mediterraneo. Intanto almeno 12 persone sono state uccise e 25 ferite in attacchi che hanno colpito il campo profughi di Burej, nel centro della striscia di Gaza. Secondo dati forniti dal Ministro della Sanità di Gaza sarebbero almeno 42.000 le vittime. dall'inizio dell'offensiva israeliana in territorio palestinese.